E' da domenica che Dino Lago, 80 anni, di Galliera Veneta, nell'Alta Padovana, non dà notizie di sé. L'uomo si è allontanato a piedi da solo e poi ha fatto perdere le sue tracce. Dopo l'allarme lanciato dai familiari, ora sono scattate anche le ricerche, da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile, che stanno perlustrando la zona alla ricerca dell'anziano, che si è allontanato senza portare con sé i documenti. Anche il sindaco di Galliera, Stefano Bonaldo, ha lanciato sui social un appello, invitando chi avesse notizie a contattare le forze dell'ordine. Grazie a tutti.